ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere come realizzare questo bellissimo motivo che ora vi faccio vedere anche da vicino come si presenta guardate che meraviglia è molto fine molto particolare con questo bellissimo effetto plesetato non ha un lato diritto o un lato rovescio in quanto da entrambi i lati si presenta nello stesso modo perciò può essere tranquillamente utilizzato applicato per diversi progetti vediamo appunto come realizzarlo partiamo subito e andiamo avviare 25 maglie e avremo 5 ripetizioni del motivo quindi sono 4 mali per ogni motivo 20 mali saranno dedicato quindi al motivo 3 mali alla simmetria e 2 mali a vivagno per l'avvio optiamo per l'avvio alla nordica chi volesse vedere il tutorial dettagliato dell'avvio alla nordica troverà nella descrizione del video qui sotto oppure sopra nei video consigliati ecco qui abbiamo avviato le nostre maglie giriamo il nostro lavoro e iniziamo con il primo ferro la maglia di vivagno noi la spostiamo senza lavorare e per le maglie rimanenti andiamo a lavorare la semplice costa due per due quindi due maglie a diritto e due maglie a rovescio e così procediamo per tutto il ferro ecco che siamo arrivate a ultime tre mali che sono le mali dedicate alla simmetria di queste tre mali prime due le andiamo lavorare a diritto normale ultima lavoriamo a rovescio e la maglia di vivagno noi andiamo lavorare a diritto queste tre mali ci permettono sfalsare creare il plissamento del nostro motivo e dare questo aspetto differente della costa ora il nostro ferro di ritorno noi andiamo lavorare nello stesso modo spostiamo la male di vivagno partiamo subito due maglie a diritto due maglie a rovescio due maglie a diritto due maglie a rovescio e così continuiamo per tutto il nostro ferro come se stessimo facendo la semplice costa due per due lo sarebbe se non fossero state fatte le tre mali di simmetria che ci hanno permesso creare questo effetto questa variante appunto della costa classica ecco che stiamo arrivando alla fine anche qui del ferro e anche qui andiamo fare la stessa cosa con le male di simmetria due maglie a diritto 1 2 terza a rovescio e la maglia di vivagno a diritto nel nostro caso in tutti i ferri ultime tre mali andranno lavorate nello stesso modo due a diritto e due a rovescio dopodiché riprendiamo di nuovo il nostro ferro e andiamo lavorare il nostro motivo sempre mantenendo la semplice costa due per due e così dobbiamo andare procedere per tutta la lunghezza del nostro motivo del nostro progetto facendo la semplice costa due per due dall'inizio del ferro e facendo tre male di simmetria alla fine lavorate in questo modo due a diritto e due a rovescio ed ecco che il nostro motivo sta già prendendo bene la forma e si vede già questo bellissimo decoro che appunto ci sta saltando fuori ora per alcuni ferri andiamo lavorare questo motivo per vedere che effetto fa anche con una colorazione diversa del filato ed ecco qui così si presenta il nostro motivo dopo che abbiamo portato avanti per altri cinque ferri il nostro motivo come potete vedere davvero molto semplice da realizzare con questo bellissimo effetto a 3d e da entrambi i lati si presenta nello stesso identico modo quindi facilmente adattabili per diversi progetti speriamo che questo tutorial sia stato utile che siamo riusciti a spiegarvi tutti i passaggi se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo in più potete venire trovarci anche su facebook dove abbiamo creato sia la pagina che il gruppo ci farebbe veramente tantissimo piacere vedere i vostri lavori e le vostre creazioni grazie a tutti e al prossimo video tutorial